I cittadini invece di conferire il loro sacchetto per strada dovranno differenziare la frazione organica, quindi la preparazione dei pasti, il resto, in un altro sacchetto e conferirlo in un bidone appositamente dedicato, mentre indifferenziato lo porteranno all'interno di un altro bidone. Invece di posizionarlo fuori dal proprio portone ci sarà una mappa con 56 postazioni. I cittadini dovranno semplicemente cercare la postazione più vicina al loro portone, alla loro abitazione e conferire i rifiuti differenziati. Verso una rivoluzione del servizio di raccolta differenziata nel centro storico Aretino, una riorganizzazione che era partita alcuni mesi fa quando nei quartieri Aretini erano arrivati i cassonettisi che adesso sbarcano anche nel cuore cittadino. Il centro storico sarà così suddiviso in due zone. Dal 10 luglio la raccolta porta a porta nella zona più centrale di carta e cartone si terrà ogni lunedì, mentre il multimateriale, imballaggi in vetro, alluminio, plastiche e tetrapack si svolgerà ogni martedì e venerdì. Organico e indifferenziato dovranno essere invece conferiti all'interno dei bidoni di prossimità. Nella fascia più esterna invece a partire da lunedì 17 giugno non sarà più attiva la raccolta porta a porta, ma saranno a disposizione delle utenze i nuovi cassonetti easy. Noi siamo arrivati con i cassonetti intelligenti, i cassonetti cosiddetti easy, nella parte bassa della città dove sono stati installati, a una raccolta differenziata prossima al 70%, quindi abbiamo già accolto sostanzialmente l'obiettivo che ci perviene dalla regione toscana. Estenderlo nella parte alta non è possibile attraverso i cassonetti easy, ripeto l'unico cassonetto che rimarrà sarà quello dell'umido, nel quale potranno conferire con facilità i residenti. L'altro tema interessante è quello di riuscire a lavorare correttamente con gli esercizi commerciali, perché anche loro in qualche maniera ci aiutino a tenere pulita la città rispetto alla permanenza dei sacchetti, dei rifiuti lasciati la sera prima per la mattina dopo. In questi giorni stanno arrivando a casa dei residenti circa 6.500 utenze le lettere e il materiale informativo, che illustreranno nel dettaglio tutte le novità presenti. Giovedì 6 giugno invece all'uditorio Maldoducci ci sarà un incontro con la cittadinanza, infine arriva anche uno sportello al cittadino all'interno della Casa dell'Energia. Lo sportello di consulenza e sensibilizzazione sulla materia dei rifiuti è già aperto, è già funzionante, quindi distribuzione dei sacchetti e dei kit a mianto, già attivata da ieri pomeriggio, quindi abbiamo il plauso anche dell'amministrazione, una nuova attività strettamente connessa a quella che poi già facciamo, che è la sensibilizzazione sul mondo dell'energia. Ovviamente cosa succede? La materia del rifiuto è strettamente connessa, perché il rifiuto è sicuramente energia. E questo tipo di sensibilizzazione e razionalizzazione della materia del rifiuto in Arezzo e provincia troverà sicuramente il plauso della cittadinanza e già sta trovando i suoi risvolti positivi anche a livello cittadino, quindi veramente esprimo tutta la mia felicità per questo servizio attivato.